Io sono Nemo. Sapete cosa vuol dire in latino? Vuol dire nessuno. Ecco, io sono nessuno. Sono il simbolo di tutti i cani di tutti i canini del mondo. Sono quello che è invecchiato qui, guardando lo stesso eterno film, fatto di box, vecchie cubucce e reti. Sul mio lucido manto nero è comparso del bianco. Che tristezza. Ho passato una vita intera a cercare risposta a una domanda che ormai sto smettendo di farmi. Mi sto rassegnando. Che cosa vuol dire andare a casa? Quando gli amici del canile felici tornano a trovarci con i miei compagni di box, io cerco di ascoltare cosa dicono e di trovare risposta alla mia domanda. Non so se anche tu che stai guardando questo video sai che cos'è una casa. Sembra sia un posto sempre caldo, con tanti oggetti comodi su cui dormire, con delle persone che tutto il giorno si prendono cura di te. Ora capisci perché sono tanto curioso. Sembra un posto bellissimo. Ho quasi 12 anni. Già. Sono buono, nero e anziano. Ma sono nessuno. Mi piacerebbe almeno per una volta sola essere qualcosa per qualcuno. dopo facilmente. Musica. Musica. ce